2 3 5 5 5 5 7 9 9 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.